Grazie Io ringrazio di cuore tutti gli intervenuti a questa serata Raccontare 25 anni di coro è difficile perché c'è tanto impegno, c'è tanta passione Ci sono tanti sacrifici e penso che stasera avete avuto la possibilità di ascoltare un coro che facendo le cose in modo serio e anche solo per una prova a una settimana si riesce comunque ad ottenere qualcosa di buono Io ero entrato 25-26 anni fa per cantare e mi trovo qui a dirigere questo Questo è quanto potrebbe succedere nella vita Noi vogliamo lasciarvi questa sera con un bis che avete richiesto prima è un bis particolare abbiamo pensato a qualcosa che ricordasse anche l'unità d'Italia perché visto che la migliore espressione di unità di coro è quindi unità d'Italia significa anche unità di voci, unità di coro, unità di passione vogliamo lasciare concludere su questa serata con un bis che fa pensiero di Verdi Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.